Buongiorno e bentornati dopo la pausa feriale. Siamo quasi in stereofonia, come sempre il dinamico duo legale, cioè l'avvocato Gianmario Bastetti e Antonio Costa Barbè e torniamo per la quattordicesima stagione. Inizia una nuova stagione, bella quattordicesima. Ho ragione, avvocato, grazie agli schermi di Videonovara, a tutti gli emittenti, grazie ai nostri ascoltatori che ci supportano e sopportano appunto da quasi quattordicesima. 13 anni e adesso inizia il quattordicesimo. Bene, allora proprio per ridare fiato alla novità andiamo indietro, facciamo un salto molto molto... Passo indietro. Esatto. E torniamo proprio a quel giugno del 2005, quando timidamente da questi schermi, dall'altra parte della sala trasmissione... Siamo collocati molto più timidi e molto più genati, come si suol dire, in termini di allettare. Iniziavamo, ho ragione, avvocato, poi vi dirò una cosa prima della fine trasmissione. Allora, come iniziamo? Iniziamo con una lettura molto preparata, l'avevamo un pochino sceneggiata prima, che riguardava un mio scritto tratto da una rubrica, appunto, Buongiorno avvocato, quasi simile, che era apparta su alcuni giornali locali, su quel giornalino spendibene giallo, che magari qualcuno... Mi ricordo che c'era un ritratto suo fumettato. Fumettato da Emilio Vecchio. Me lo ricordo. Era un bravissimo caricaturista, poi medico, e c'è... Bene, il titolo di questa prima trasmissione era appunto Come fu che Severino cadde nel gorgo, perché i personaggi di questa piccola saga erano l'avvocato e Severino l'edicolante. Faccia sempre 3.000 domande all'avvocato. Infatti comincia così. Oh, eccola, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno, ma cosa le fa credere che lo sarà? Beh, la giornata è bella, ho riposato bene, e lei no? Cosa vuole? Mi sono svegliato presto, non sono riuscito a prendere sonno, poi. Ma le pratiche legali non fanno dormire. Certe volte io penso che dovrei... Su, su, adesso non esageri. C'è tanta altra gente che soffre di insonnia. Magari ha dei problemi ben più gravi dei suoi. Ma, a proposito, cos'è che la tormenta tanto nel suo lavoro? Ma vedi, Severino, non è facile da spiegare così sui due piedi. No, no, ci provi, mi interessa. La vedo sempre così pensieroso quando passa da me a prendere il giornale. Vabbè, va bene, Severino. Allora, le faccio un esempio. Se lei avesse un problema di carattere giuridico, quale sarebbe la cosa che mi chiederebbe subito? Vediamo, le telefonerei in studio, le racconterei, le accennerei il mio caso, poi le domanderei cosa dice la legge a proposito del mio problema. Ecco, ecco, è proprio così che succede quasi sempre. Il cliente fa delle domande al telefono e crede che l'avvocato possa dargli subito delle risposte precise. Scusi, avvocato, perché non è possibile. In fondo lei il codice lo ha portata di mano. Cosa ci vuole? Conosce le norme, apre il codice, legge l'articolo che interessa alla persona che... No, guardi, guardi, intanto di codici ce ne sono almeno quattro fondamentali. Civile, penale, di procedura penale e di procedura civile. E questi contengono le regole che spiegano come devono essere tenuti i processi civili e penali. Poi, veda, un caso può avere molti più risvolti. Può essere rilevante in sede civile, perché ad esempio da origine a diritti e obblighi tra privati, e contemporaneamente in sede penale, perché integra gli estremi di un reato che lo Stato ha interesse a punire. Quindi non basta leggere un articolo. Magari bisogna consultarne tre, quattro, cinque e poi ci sono le leggi speciali. Ma a parte questo c'è bisogno di ascoltare i fatti con molta più attenzione, non certo al telefono. Può essere indispensabile consultare documenti in possesso del cliente e tutto questo comporta necessariamente tempo, riflessione e studio. Oh, caspita, avvocato, adesso che mi ci fa pensare? Dare una risposta al telefono sarebbe un po' azzardato. C'è il rischio di commettere degli errori, no? E poi, insomma, comunque di non poter valutare la situazione globalmente. E' così, Severino, è così. Capisca. E' davvero importante l'accurata impostazione giuridica di un caso. Perché ogni caso ha la sua storia. Ma di questo parleremo un altro giorno. Arrivederla, Severino. Buongiorno. Ah, visto che è riuscito a dirlo anche lei. Buongiorno, avvocato. E' riuscito nel suo intento, Severino. E questa era la puntata iniziale. La ricordo, molto bella. Che vale ancora oggi, anche se oggi ci sono molte più leggi speciali. Però è un appunto, è stata fatta a suo tempo e mi collego con quello che poi tratterò oggi, parlerò oggi e magari anche alla prossima puntata. Accennava giustamente ai quattro codici fondamentali, ma non c'era a quei tempi il codice del consumo. Che noi ogni tanto utilizziamo come consumatore. Soprattutto che ha assunto una notevole importanza in questi ultimi anni. Sì, con tutte queste normative europee recepite dal nostro... E adesso ce ne parlerà l'avvocato Bastetti. Con il ricordo che prima della fine trasmissione vi darò una importante notizia su quello che abbiamo appena letto. Se vuole anche darlo... No, 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 così almeno la seguono. Io ho preso gli strumenti del mestiere. Ad hoc. Allora, oggi ogni tanto ricadiamo su questo argomento del codice del consumatore. Ma perché? Perché effettivamente ci sono spesso delle novità. Diciamo che la comunità europea, questo è uno di quegli argomenti dove tratta e emana molte normative. Per cui normative a tutela del consumatore. Volevo solo fare qualche passo indietro anch'io a questo punto. parlare appunto del codice del consumo, che praticamente è un codice, raggruppa delle leggi, a questo punto sono diventate un vero e proprio codice, che regolano e tutelano i consumatori. Regolano i rapporti giuridici tra professionisti e consumatori. Il codice del consumo predispone, ma ne avevamo già accennato, però volevo passare in rassegna un po' quello che è, che rappresenta il codice del consumo. Intanto contiene delle regole di correttezza nella condotta degli operatori commerciali. Per cui, dette le regole in base ai quali gli operatori commerciali, sono quelli che ci propongono poi di sottoscrivere il contratto, devono attenersi, cioè devono attenersi da pratiche ingannevoli, non esercitare pressione psicofisica sul consumatore, eccetera, eccetera, eccetera. Ricorda il film del padrino, che tu ragionaci con la persona prima di fare un'offerta che non potrà rifiutare. Non potrà rifiutare. Ecco, qui non siamo a quei livelli, però insomma. E appunto questa normativa europea, ricepita nel nostro ordinamento, ha previsto come autorità che vigila il mercato, in questo ambito, che se sono effettivamente state seguite le regole di correttezza o meno, la GICOM, autorità garante della concorrenza del mercato. Oltre a questa dettatura di regole che devono attenersi gli operatori commerciali, c'è anche una produzione di norme a tutela e da seguire nella formazione del contratto. Ci sono delle regole generali, ad esempio, ricordiamone una, è previsto nel codice del consumo, il foro di competenza del consumatore, foro territoriale, per cui se un operatore commerciale dovesse fare causa al consumatore o viceversa il consumatore dovesse fare causa all'operatore commerciale, non si va a vedere il foro del convenuto, ad esempio operatore commerciale, ma il foro di residenza del consumatore. Quello del foro del convenuto è la regola generale, quella prevista dal codice del consumo. Quindi dice vado a casa di quello che vado a rispondere. Per cui ci sono delle tutele particolari, adesso c'è il vantaggio ovviamente e fare una causa presso il foro della propria residenza, ovviamente porta dei vantaggi. Poi c'è anche una disciplina particolare per, come dire, tipologie, diverse tipologie contrattuali. Avevamo visto i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, la tutela che ha portato il codice del consumo e questa normativa europea recepita in Italia, che sono i contratti conclusi fuori dai locali commerciali sono ad esempio i contratti conclusi per strada oppure quando ci fermano per strada. Per cui la soglia di attenzione è più bassa rispetto a quando noi andiamo in un negozio ad acquistare un bene, cosa che nel negozio non vale questa tutela ovviamente. Invece per strada magari stiamo guardando il panorama, stiamo guardando qualche... E ci abbordano con qualche frase, lei è bel giovine. E uno già lusingato è pronto a firmare il contratto, ma qui ci sono delle tutele. Ci sono anche le tutele, oltre a questo caso, ci sono quando, non so, i rappresentanti vengono nelle abitazioni private, suonano, ci propongono degli acquisti. Ecco, c'è tutta questa tutela, è una lunga normativa che non sto adesso a dilungarmi, che prevede anche il ripensamento in 14 giorni. Questo direi che lo possiamo sottolineare bene. Il consumatore, dal momento in cui sottoscrive il contratto, ha 14 giorni per ripensare e dire ma no, l'ho fatto, ero sovrapensiero, erroneamente, o comunque non ho intenzione di farlo. E senza motivare può, nei 14 giorni, mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dicendo che ha intenzione di recedere al contratto. Questo periodo di 14 giorni è allungato a 12 mesi nel caso in cui, ad esempio, nel contratto che è andato a firmare non è provvista la facoltà di recedere nei 14 giorni. Cioè quando ci sono delle lacune contrattuali. Cose che a volte non mettono proprio per non darci... In quel caso abbiamo 12 mesi addirittura, per cui, insomma, la tutela è abbastanza lunga. Tutele particolari le abbiamo anche nell'ambito della multiproprietà che adesso in realtà se ne sentono sempre meno. Ma anche qui c'è la possibilità di recedere nei 14 giorni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto la garanzia, già passata in qualche trasmissione, la garanzia concernente i beni di consumo, no? Per cui l'obbligo, ovviamente, per il venditore di consegnare beni come dire, conformi al contratto di vendita, cioè che funzionano, per capirci. Poi i vari obblighi da parte del consumatore, cioè denunciare il difetto entro due mesi dal momento in cui ha riscontrato il difetto stesso. Conviene anche in questo caso mandare una raccomandata. E poi, sì, la prescrizione, l'ampia prescrizione, 26 mesi, cioè abbiamo 26 mesi di tempo quando acquistiamo un bene di consumo per poter fare un'azione, perché la garanzia è due anni, 24 mesi. Due anni nei confronti del venditore. Il venditore, molti sbagliano, perché, ad esempio, faccio un esempio, acquistiamo un'autovettura, l'autovettura ha una certa marca, no? E' capitato a molti nostri clienti o associati dell'Unione Tutoriale Consumatori che indirizzano il reclamo alla casa produttrice dell'autovettura. In realtà, in base a questa normativa, la garanzia deve essere fatta valere nei confronti del venditore. Bisogna anche lì mandare una lettera raccomandata. Abbiamo poi 26 mesi per fare l'azione, no? Cosa dice la legge? Dice che il consumatore ha diritto a quattro rimedi alternativi e gradati, nel senso che il primo rimedio previsto è la riparazione del vizio o la sostituzione. Oppure, ancora, una riduzione del prezzo quando il vizio, come dire, non incide sulla funzionalità del bene. Cioè, se non funziona un'autovettura, il motore dell'autovettura, che è il cuore dell'autovettura, ha voglia di ridurre il prezzo, non funziona proprio. Oppure, appunto, come estrema razio, la risoluzione del contratto. Come in questo caso che accennavo, il motore che non funziona, c'è l'estrema razio della risoluzione del contratto. Cioè, restituzione dell'autovettura e restituzione del prezzo. Poi avevamo visto anche la sicurezza dei prodotti difettosi, ma questo poi è tutto un altro capitolo, ma nello stesso tempo vedo che il tempo è scaduto. Nello stesso tempo vedo che il tempo è scaduto. Ma a tutela dei nostri... Tanto lei poi continuerà con... Continuerà, perché volevo parlare dei pacchetti turistici e in particolare, come dire, dei recenti aggiornamenti legislativi che sono entrati in vigore il primo agosto. Ecco per cui... Sì, ma anche noi lo veniamo a sapere. Cioè, siamo sempre lì con gli occhi puntati. Sì, è un decreto legislativo di maggio. Di maggio. Poi è entrato in vigore ad agosto, poi ad agosto ci sono state le ferie e noi avvocati, tutto sommato... Oddio! Avevamo iniziato a settembre a guardarci. Anche se oggi con le PEC, le mail e tutto quanto le nostre ferie anche mentalmente sono molto... Sì, non distacchiamo mai... Comunque alla prossima puntata per i pacchetti turistici. Mentre in attesa della prossima puntata io volevo solo ricordarvi che grazie alla mia eterna dispensa dove conservo molte cose su YouTube potete trovare, se battete, vado a memoria, Ho ragione avvocato 2005, prima puntata, vedrete l'originale della puntata. Andrò a rivedermela anch'io. Sì, è un po' schiacciata il video perché purtroppo la qualità veniva da una cassetta, però si notano anche le differenze, a parte un po' di età, e anche di volumetria. Andatevi a vedere Ho ragione avvocato del 2005 su YouTube. Grazie per l'ascolto, alla prossima. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata a tutti.